Ultimi preparativi nell'area del Capanno, sede storica del Partito Democratico Lodigiano. Da giovedì sera prenderà il via l'edizione 2024 della Festa dell'Unità, la tradizionale Kermessa, ad un passo dall'Adda, momento di convivialità e di riflessione politica. Quali le novità sul primo versante? Ma è una festa che vuole avere un carattere popolare, cioè una festa che vuole essere inclusiva e il progetto ormai da qualche anno è quello di rendere questa festa aperta a tutta la città, a tutto il territorio, non solo agli iscritti simpatizzanti del Partito Democratico, ma anche a tutti coloro che vogliono riconoscersi nei valori democratici, ritrovarsi per stare insieme, per divertirsi, per giocare e per magari ascoltare un po' di politica. Come sempre saranno presenti alcune associazioni di volontariato, ma anche in questo caso con una novità, quale? Quest'anno in particolar modo abbiamo una quindicina di associazioni che faranno i loro banchetti associativi, espositivi e in più molte associazioni invece che fanno attività di carattere sportivo, ludico, ricreativo, quindi dagli scacchi al karate, allo yoga, ai balli latinoamericani o caraibici che allieteranno le serate per chi verrà alla festa, quindi daranno un valore aggiunto ulteriore, con anche gli spazi poi per i giovani dove quest'anno per la prima volta abbiamo un mega scivolo, il taboga, che farà divertire i piccoli ma io dico anche gli adulti. Quali i momenti più significativi della riflessione politica? Lo spazio di batti è uno spazio ricco, sono oltre 60 gli ospiti delle 10 giornate della festa, tanti appuntamenti del territorio che mirano a aprire una discussione sui temi più territoriali, quindi dal no all'impianto Equat, alla nuova discarica, ai temi dei trasporti dei pendolari, ma poi due appuntamenti significativi, il primo di settembre l'appuntamento con il Presidente nazionale del partito Stefano Bonaccini, l'altro appuntamento interessante è il dialogo tra il Direttore di Repubblica e Lorenzo Guerini e poi per noi, per chi è impegnato nel partito, l'orgoglio di avere come ospite quest'anno il 7 settembre alle 21 la Segretaria Nazionale del Partito Democratico, Alice Line. Che cosa vi aspettate da questa edizione della festa dell'unità? Ci aspettiamo tante persone curiose, ma anche la capacità e la voglia di rimettersi in cammino nel nostro territorio, a partire da temi territoriali senza dimenticare una visione nazionale ed europea. Appuntamento al Capanno da giovedì sera fino a domenica 8 settembre.